Travolgiamoli! L'abbiamo preso! Entrato! 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 L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! Corazzato nemico danneggiato! Siamo immobilizzati! Li abbiamo danneggiati! Possiamo andare! Corazzato nemico danneggiato! L'abbiamo preso! Preso! L'abbiamo preso! Corazzato nemico danneggiato! Centrato! Corazzato nemico! Corazzato nemico! Corazzato nemico! Corazzato nemico danneggiato! Corazzato nemico distrutto! L'abbiamo preso! Corazzato nemico danneggiato! Corazzato nemico... Corazzato nemico. Corazzati! Entrato! Bel colpo! Entrato! Veicolo nemico distrutto! Mi abbiamo danneggiati! Entrato! Non c'è nessuno! 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 Allora siamo folle! Non c'è nessuno! VEXищero! Allora nosè! Grazie per la visione! Grazie a tutti!